Con l'alarmamento del nostro sistema di distribuzione di corriente con il filtro ELMAR5 che si tratta di scacolt cioè con il web che si tratta di corriente Nel momento abbiamo contatto di via con il web per capire il nostro origine e il motivo per cercare di informare che non c'è un problema con un generatore con un gas turbina che si tratta di scacoltare E poi abbiamo portato un altro generatore che si tratta di una corriente in un'altra parte Poi basta un rato che si tratta di guardare per il web che si tratta di un ok per rimanere la corriente in un altro bar che si tratta di prendere la corriente in un altro bar per portare una parte commerciale di corriente in un'altra parte è una parte commerciale molto importante per l'Arupa e noi stiamo in mente Grazie Grazie